Sona, perché siamo all'aeroporto? Perché andiamo in Jeju. Ah, all'isola di Jeju? Sì. Ah, che brava. Che bella. Quindi ci sentiamo dopo? Dopo. Quando partiamo, Sona? Mangeremo un casino di porco, porco, maiale nero, giusto? Maialino nero. Ciao. Non so se mi sentite, ma siamo venuti a mangiare il Miglior Sangyopsal di Jeju Do, dell'isola di Jeju. Qui cucinano il maiale nero, ed è un posto davvero famoso, infatti è sempre pieno. Se venite sull'isola di Jeju vi consiglio di venire qui a mangiare. Ciao. Consigli alle persone di venire a mangiare qui? Qui è buono? E' buono Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Ciao Ghi, come erano le cascate? Ti sono piaciute waterfalls? Erano belle? Che bello Abbiamo fatto tanto oggi, quindi andiamo a casa, dai. Ciao, buonanotte, ci vediamo domani Eh ma che bello sono Buon viaggio, bellissimo Antonio Bellissimo Antonio? Bellissimo Antonio Ah, bellissimo sono